All'arrivo in Italia dopo più di tre mesi di detenzione in Russia, Christian D'Alessandro, l'attivista di Greenpeace, trattiene a stento l'emozione. È provato, stanco, dimagrito e anche per questo decide di non voler incontrare i giornalisti, tantissimi, che lo aspettano a Napoli all'ingresso del suo palazzo. Dove ad accoglierlo c'è però uno striscione con su scritto bentornato. Così le poche dichiarazioni sono affidate al padre, che racconta con gioia i momenti che hanno seguito l'abbraccio tra Christian e i suoi familiari. Ci stiamo semplicemente abbracciati per aver chiuso una vicenda che aveva tutti connotati di un incubo. Lui è apparso molto deperito? Deperito sì, molto forse no. Si stava già riprendendo in questo periodo di libertà su cauzione trascorso a San Pietroburgo. Christian il 18 settembre partecipò a un blitz nell'Artico per bloccare le estrazioni di petrolio da parte della società russa Gazprom. Per questo fu arrestato. Dopo il rilascio su cauzione è arrivata finalmente l'amnistia che ha permesso a Christian di far finalmente ritorno in Italia, circondato dall'affetto dei suoi cari e dei suoi tanti amici. Lo spavento lo fermerà oppure no? No, credo proprio di no. Perché è un ideale che lui ha sempre perseguito e non ci sono motivi per interromperlo ora. Il sacrificio fa parte del gioco. Una piccola sofferenza è superabile.